Buonasera e bentornati a Diario del Giorno. Molti come sempre... Aia, 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 scusami Marianna, scusami, ma tu hai tutto il diritto di condurre il programma al posto mio, ma io in quanto responsabile del programma ho sentito degli aia, c'è qualcosa che non funziona, degli aia, degli aia nelle telecamere, devo controllare la 1, la 2 devo controllare, e la 3, ups, sì, mi sembra tutto a posto, niente paura, Marianna, continua tranquilla perché io non posso andare in video. No, infatti, grazie, grazie, scusatemi, allora oggi il tema che affrontiamo... Tutta la pupa a saggaria, tu vedi la papà, dove te l'appoggia? Cosa? Il bidone. Oddio. Sì, è molto importante idratarsi in quanto la diretta prosciuga, l'anima ci disidrata, per l'amor di Dio, tu hai tutto il diritto di fare diretta al mio posto, ma io ho il dovere di idratarti. Sì, infatti, lascialo lì, Andrea, grazie. Oggi parliamo della nuova manovra di governo. Sì, 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 tutto a posto, tutto a posto, prova, tutto il diritto, tutto il diritto, Quale? Cosa? Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Verifico il collegamento con Senaldi, mi senti Senaldi? Sì, Andrea, sì, ti sento bene. Andrea, però ti ricordo che già vai per centri commerciali. Ecco, non vorrei che ci finissi anche a dormire. Ecco, sempre una lama, direttore, devo solo accertarmi che sia tutto perfetto. Facciamo una prova audio. Direttore, secondo me ti fischia il microfono. Fischia nel senso non delle gambe, non nel... Oh, bella. Che begli occhi che hai, estori. Il lupo perde il ciuffo, ma se continua così, secondo me pure il lavoro. Sparisco, lasciamo perdere, parlare della manovra, il mio ex-governo, direi capolavoro di manovra. Ma guarda, Andrea, nella storia della Repubblica non si è mai vista una fidanzata, una finanziaria. Finanziaria, direttore. E' perché ho visto la nuova conduttrice, scudia, finanziaria di questa portata. No, allora io sono la conduttrice di questo programma, signori. Ma assolutamente, tra l'altro sei bravissima e anche bellissima con questo rosso pompe. Occhio al merdone, Andrea. Occhio al merdone. Stavo dicendo pompeiano, direttore, rosso pompeiano. Ah, pompeiano. Per carità, vado via. Subito, ho fatto le mie verifiche, è tutto a posto. Per me è un grande... Pollici alzati. Per te, Marianna, vai, lo studio è tuo. Prendilo tutto. Nel senso buono. Vado. Cio, 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 cio. Sì, allora, direttore, torniamo alla manovra. La domanda che dobbiamo farci tutti è... Cos'è? Cosa sta facendo? Dove te lo metto? Cosa? Sto cactus. Andrea, dai, ti prego, ma non hai da spolverare? E' un mixer in regia. Sì, sì, per carità, mi taccio, vado via. Vado via, mi lascio soli. Lungi da me a fare una cosa a tre. E là. Cosa? A tre, a quattro. Oddio, che schifo, io me ne vado. A rivederci. Allora, te l'alziamo, direttore. No, Anna. Ciao, ciao.